ora cammina non si preoccupi bene bene ma che c'è? che ti prende? presto dategli il presto dategli il cosa? dategli cosa? cerchi di mimarlo quattro sillabe prima sillaba suona come te suona come me te te si 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 seconda sillaba preposizione come il con su da si da da ha detto sedano ha detto sedano ha detto sedano da come? da da sedato da sedatavo ha dato un sedato vivo sedativo ce l'ho azzeccato che si è che si 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 niente di rotto si vuole scusarmi un secondo cara naturalmente dottore aygor posso parlarti un momento certamente siediti vuoi grazie no no più su grazie dimmi quel cervello che mi hai portato era di hans delbruck no a bene e ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro non si arrabbierà no io non mi arrabbierò a b qualcosa a b qualcosa a b chi a b norme a b norme sono quasi sicuro che era quello il nome vorresti dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo due metri e venti e largo come un armadio a due ante canalia presto bantelli cosa quattro sei la bestia